C'era la festa del lupo, facciamo la festa del lupo a settembre gli anni di 60-70, anche lì addobbavamo dei carri, carri agricoli, con grappoli d'uva, poi passando per i ferri noi avevamo un costume, c'era la divisa allora della Prologue, le gonne a fondo lì con i giorellini e la camicciola bianca di San Carlo e distribuivamo passando la gente, i sacchettini che ci fanno infezionati. Io do 65, io avrò avuto 15 anni, sono da 50 settembre, quando le prime uve erano mature, i primi raccolti, ci radunavamo con questi primi raccolti che facevamo, sacchettavamo e poi addobbavamo con i tracci con l'uva e il caro che portiamo a fare, abbiamo qualche cosa. Le feste dell'uva non le abbiamo più fatte, no, non le abbiamo più fatte ma proprio da tanti anni, era la festa dell'uva bellissima.